Pico G Claude 97 It's You have a two It's Siamo qui con un ospite d'eccezione Alberto Olivero Forse il viso non sarà noto per tutti ma sentite che voce Eschioce Eschioce Garlic Hanno maledetto E tu Gohan Una vita senza ideali Non è degna di essere vissuta Ehiuie 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 Doppio Colpo Perché Odo Pado E Anno Cairo Anno dopo anno sta investendo Cerca di mettere su sempre più mattonelle per costruire un grande culo Se noi dovessimo rifarci a Dragon Ball Chi sarebbe il Deus Ex Machina che potrebbe risolvere tutto? Goku In difesa Garlic In centrocampo E Junior In attacco Cannone speciale Perché è una squadra che si porta ancora secondo me dietro le palle Deve riuscire finalmente a buttare il passato dietro le palle e non vederlo ancora davanti Un pronostico per il derby? Non possiamo che chiedere un saluto agli amici di Toro News da Junior Da Junior Ror Roinuia Io vi dico Io sono fortissimo E I I I I U E E E E I I V E U E E E E A E A E E